È stato presentato questa mattina presso Palazzo Gallini in via Emilia 7 Fai Marathon, l'evento nato dalla collaborazione tra Comune di Voghera e Fondo Ambiente Italiano, che si svolgerà domenica 18 ottobre. Un pomeriggio di trekking con tappe culturali e visite guidate ad alcuni dei monumenti più importanti della città di Voghera. Presente tra gli altri l'assessore alla cultura Marina Zaretti. L'iniziativa in programma domenica 18 è in collaborazione con il Fai, che come sapete è un ente che lavora su tutto il territorio nazionale per la valorizzazione dei beni storico-artistici. Dal mattino al pomeriggio organizzano insieme a noi appunto un trekking con visite guidate ai quattro principali monumenti. Un trekking che in un futuro potrà essere allargato anche ad altri monumenti perché presso ogni monumento che è il castello, la chiesa di San Giuseppe, la chiesa rossa e il teatro sociale sono presenti delle guide e quindi con una piantina uno può girare in libertà. Mi auspico poi di allargare questi trekking anche ad altri monumenti. Sono un'occasione per il commercio e per questo io solliciterò giovedì una riunione anche ai vertici delle associazioni dei commercianti con i quali stiamo lavorando per iniziative natalizie per Halloween affinché condividano questa iniziativa con i loro associati e magari bar e negozi stiano aperti perché hanno modo di farsi conoscere. Il Fai porta qua gente anche da fuori e comunque può essere un modo per anche dagli stessi vogheresi essere riconosciuti perché non è che sempre rimane nella memoria la presenza di un'attività se non viene anche sollecitata la sua visibilità. Diciamo che si va ad ascoltare un pochino quelle che sono state le richieste dei cittadini cioè non fermiamoci alla Notte Bianca, proseguiamo con gli eventi, è giusto? Ma è giusto anche cercare di creare le sinergie tra tutte le iniziative che sorgono più o meno spontanee ma anche strutturate ma strutturarle in maniera tale che diventino complementari non iniziative autonome random ma tra l'altro domenica c'è anche il mercatino dell'antiquariato in Piazza Duomo se si riesce appunto a tutte queste iniziative a farle convergere in un progetto unico e a dare a loro unicità possono diventare anche un motivo appunto di rivitalizzazione globale e anche del commercio l'importante però è che naturalmente il commercio e soprattutto i negozianti partecipino ossia stiano aperti. Lo so che può essere un sacrificio aprire la domenica ma può essere anche un motivo per farsi appunto come ho detto conoscere e riconoscere. Il suo sembra un invito? Il mio è un invito, il mio è un fortissimo invito alla collaborazione io ho trovato anche, devo dirvi, guardate che adesso le iniziative iniziano a partire spontanee dalle stesse attività commerciali che come in via San Lorenzo si sono organizzate come si sono organizzate in altre strade della nostra città in via Garibaldi, in via Grattoni, in Piazza Duomo, nella stessa Piazza Duomo le attività commerciali cercano di valorizzare Piazza Duomo di valorizzare se stesse attraverso l'aggregazione tra di loro costruendo dei percorsi per rilanciarsi cioè iniziamo tutti a tirarci sulle maniche non può certo, lo dico onestamente, non può certo un'amministrazione comunale, un assessore cambiare le sorti di una città, le possiamo cambiare tutti insieme. Le visite sono previste nelle due fasce orarie 10, 12 e 30 e 14 e 30 e 17. C'è un gruppo di persone ferme in uno dei quattro monumenti, le persone partono, fanno la loro visita, quando arrivano a un monumento e c'è un gruppo di persone abbastanza numeroso, parte la visita e poi proseguono, quindi se arriva un gruppo dopo mezz'ora ne facciamo altro. Ai singoli visitatori della data copia della mappa, in modo che possano andarsi a cercare il monumento da visitare successivamente, in modo libero, l'importante è che noi avremo i nostri referenti presenti sul posto, in questi orari. Istituito anche un concorso per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, coloro che si scatteranno il selfie più interessante vicino ad uno dei quattro monumenti verranno premiati alle ore 17 presso il castello Visconteo.